ti ho portato apposta Emo? Emo? è solo il pietro che può fare un lavoro del genere è solo lì che ci passiamo sotto romperanno quelli dei cavalli no l'ha tirato in mezzo lui l'ha preso dentro con il coso e l'ha tirato dentro Bronto! 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 Sì ma da lì ci hai tirato il tronco in mezzo e mi hanno dovuto stare a tirarlo via tutto in mezzo preciso l'hai tirato in mezzo che l'hai agganciato in mezzo non vuoi che vado in terra